Buongiorno a tutti, allora proseguiamo, proseguiamo il Tour de Fort Gigione per le schedine e bollettine, schedine per ora, bollettine la prossima, perché la prossima è il campionato italiano e ci saranno anche le bollette, schedine e bollettine. Ma adesso siamo al campionato francese signori, campionato francese che non è che ha tante partite, forse Lens-Lione è l'unica partita a Monaco-Nant, ma da una parte c'è una squadra in ascesa e nell'altra c'è una squadra in discesa, quindi non è che ci sono grosse partite di cartello, qualche partita da aiuto aiuto a rivalupo c'è sempre, però sono tra squadre medio piccole per intenderci, o se no c'è sempre la media che sfida la grande o due squadre più o meno alla pari, ma di centro classifica eccetera. Comunque ragazzoli, partiamo con Strasburgo, Stad de Rennes, o meglio ancora Rennes, X2, Paris Saint-Germain inizia 1 e sono le partite di oggi pomeriggio 17-21. domani, quindi domenica, ma la domena domena domenica, c'è Lorien Lille, 1X, Lorien Lille, 1X, Agiaccio-Clermont, eccola qua la partita da aiuto aiuto arriva al lupo, 1-2, Troyes, Stad de Rennes, qualcuno mi ha scritto Forza Troyes, quindi mettiamoci un bel uno in onore di questo che mi ha scritto Forza Troyes, Auxerre, Brest, o Stad Brestois, ma mettere Brest che facciamo prima, no, Stad Brestois, Altra partita da aiuto aiuto arriva il lupacchiotto, 1-2, Monaco-Nant, 1, e poi la sfidona Lens-Lione mi arrisca un X fisso. Ogni tanto mi piace mettere questo X fisso estemporaneo, poi naturalmente esce la vittoria 3-0 di uno, la vittoria 3-0 dell'altra, e poi mi dice, hai messo lì, che cazzo metti lì, Bigul, e va bene, mi prendo del Bigul, e va bene, succede, ve l'ho detto, la pelata, non ho mica la sfera magica o la Delorean, che vado, faccio un viaggettino a martedì prossimo, mi metto tutti i risultati, torno indietro, poi il lunedì prendo, vado al giovedì dopo, anzi meglio ancora, al venerdì, vedo tutti i risultati delle coppe, torno indietro, e sarebbe troppo bello. O addirittura prendo la Delorean, vado direttamente al 30 maggio dell'anno prossimo, prendo un bel almanaco, o meglio ancora, prendo tutti i risultati di tutti i campionati, torno indietro, e poi vi sparo i risultati esatti, e facciamo una bella bollettona con dieci risultati esatti del campionato italiano, e facciamo il botto. Poi ci arrestano perché pensano che abbiamo combinato tutti i risultati precedenti, vabbè, lasciamo perdere. Andiamo alla schedina alternativa, signori. Il Gigione, come sempre, va giù di mannaia. Strasburgo, Stad, De Reino, Ren, che dir si voglia, gol più over dato a 2,05. Devo dire, devo dire, che vedendo un attimino le quote e quant'altro, potrebbe essere una giornata da over, e in parte anche da gol. Daltonio si è partito subito col botto con un bel over 2,5 di Enger-Marsiglia. Quindi, signori miei, mi aspetto una bella giornatina, bella scoppiettante nel campionato francese. Poi magari mi fanno una giornata di meme che non arriva neanche a 20 gol, compresi quelli di ieri, e sarebbe veramente triste. Comunque, dicevamo, Strasburgo, Stad, Ren, gol più over dato a 2,05. Paris Saint-Germain, Nizza, gol più over dato a 2. Tenete conto, il Paris Saint-Germain, il suo gollettino di merda lo prende sempre. Poi ne pressegna tre, quattro, cinque, eccetera. Però il gollettino, quasi sempre, sia l'anno scorso che anche quest'anno, mi prende sempre il golletto. Ecco, il golletto dove lo metto, nella tua porta. L'Orient, Lille, qua il Gigione si arrischia un multigol casa 2,4, dato a 2,25, che veramente se esce, è tanta roba. Proseguiamo con Agliaccio-Clermont, over 2,5, dato a 2,30. Secondo me qua un 2-1, un 1-2, eccetera, può uscire tranquillamente. Troyes-Stadde-Rheims, gol più over dato a 2,05. Osser-Brest, Toschiscio, una quota bassa, over 2,5, dato a 1,75. Nulla di eclatante. Più eclatante, Monaco-Nant, over 3,5, dato a 2,50. Ecco, questo è un po' arrischiata. Quindi se non siete convinti andate di over 2,5, che comunque pagava già discretamente. Mi sembra 1,72. Però ho visto 1,60, 1,60 forse. Quando ho visto l'1,60 ho detto, no, voglio rischiare l'over 3,5. E infine, Lens-Lione, gol più over 3,5. E qua veramente il Gigione esagera. Altondo era dato a 1,72. Questa sera era dato a 1,72. Un gol più over dato a 1,72 vuol dire che questi danno abbastanza per scontato che qua viene fuori erbotto. Quindi proviamo un gol più over 3,5 e vediamo che succede. Naturalmente, ragazzi, io le sto... Esagerando. Se non siete convinti, over 1,5, meglio pochi ma buoni. Magari vi giocate quattro partite over 1,5, belle tranquille di quelle che io ho abbondato. Vi viene fuori comunque un due volte abbondante la posta. Ci sono ottime probabilità che escano e ve le portate a casa lo stesso. Io dico sempre meglio pochi ma buoni. Però se c'è quello che è, no, ma io devo vincere tanto. Voglio a minimo cinque volte la posta e qua e là e su e giù. Scegliete due partite di quelle che vi ho messo e vi viene fuori quasi e cinque volte la posta con solo due partite. Poi bisogna vedere se escono. Però devo dire che vedendo come sono andate anche le schedine della National League, devo dire che ne ho prese parecchie. e anche di queste seconda schedina molto, 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 molto e direi ancora molto arrischiata. Sei, sette partite, nove partite che erano quattro, cinque, sei prese. Era tanta roba. Poi magari capita che su nove partite ne prendo quattro. Però sono quattro che pagano più di due volte la posta. Quindi alla fine della fiera, anche con quattro, più o meno recuperi quello che spendi. Poi dipende naturalmente se giochi tutte e nove le partite singole a cinque euro l'una. E non tutte assieme, perché se le giochi tutte assieme hai buttato via i due eurini che hai arrischiato. Se invece magari le hai giocate due euro singole tutte, raddoppiando, 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 più o meno ti viene fuori quello che hai speso, magari vai anche in vincita come notavo. Però è logico, vinci pochino, è giusto? E quindi siccome poi uno mi dicessi, Gigi, ho investito dieci, ho vinto quattordici, che cazzo me ne frega. Hai ragione anche te. Vabbè, io le ho messe così. Poi ognuno faccia quello che vuole, decida come vuole, eccetera, eccetera, eccetera. Ripeto, se dovessi stare a fare la schedina alternativa con gli over, i gole, eccetera, a braccino corto, over 1,5, over 1,5, over 1,5, gol e basta, ne faccio meno. Guardo una quota, adesso è una quota tra l'1,70 in su, se no, e sono tutte quote da 1,75 in su. Certo, non arrivano a 3,3,5, arrivano a 2,50, 2,60, 2,05, 2,10, 2,20, 2,30, però sono quote comunque interessanti. Vabbè, mi sono dilungato troppo, come al solito, chi dovigna, vado a preparare il campionato italiano. Ciao! Ciao!